E' il momento di ricordare che dal 30 giugno scatteranno le sanzioni per tutti quei soggetti che, avendo a che fare con privati, rifiuteranno i pagamenti attraverso il POS. Si trattasi dei commercianti al dettaglio, degli artigiani, dei professionisti, di tutte quelle partite IVA che svolgono attività nei confronti di privati, prestano servizi agli stessi. La sanzione sarà di 30 euro più il 4% dell'importo della mancata transazione.